Buongiorno a tutti e benvenuti a questa quindicesima edizione del Mangiagalli Journal Club. Ringrazio innanzitutto la dottoressa Caia per il supporto fornito, ma non solo lei, ma direi tutta la redazione del Mangiagalli Journal Club, a partire ovviamente dal direttore Paolo Vercellini, ma anche tutta la squadra che lavora questa bellissima iniziativa che comporta, vi assicuro, un impegno molto gravoso, sia in termini di tempo che di energie impiegate e posso affermarlo con assoluta certezza perché io stesso fino a qualche anno fa collaboravo già alla rivista del Mangiagalli Journal Club, quindi so la fatica che ci vuole per mettere in piedi tutta questa cosa. Io mi chiamo Carlo Liberani e sostituisco indegnamente il professor Vercellini per questo primo incontro sul lichioscleroso genitale. Già il fatto che questo sia il primo di due la dice molto lunga sulla rilevanza di questa patologia. Infatti non solo non è più da classificarsi come una malattia rara, ma direi una malattia frequente di chi può manifestarsi, magari anche con semplici disturbi irritativi accompagnati o meno da una scarsa componente di distorsione anatomica a livello dei genitali esterni, ma magari questo qui è quasi sempre il primo passo, cioè quasi sempre ha un carattere evolutivo e costituisce il primo stadio di un lungo e tormentato processo che può portare ad esiti anche disastrosi ed invalidanti tanto a livello anatomico quanto a livello funzionale e psicosessuale, oltre a rappresentare un possibile terreno di trasformazioni neoplastiche. Quindi questi incontri, il prossimo ricordo sarà fra 15 giorni, sabato 15 ottobre. Questo di stamattina è diviso in tre parti, il lichen genitale femminile in cui interverranno la dottoressa Buero, il professor Mario Preti e Murio Rufano, poi li introdurrò uno per uno quando dovranno parlare, la seconda parte che riguarda il lichen genitale maschile e la terza il lichen nell'infanzia. A conclusione ci sarà il punto di vista della psicologa, ma comunque non è la conclusione perché quella poi vera, sarà poi sabato 15 ottobre che affronterà più nello specifico tutto quello che è appunto il ventaglio delle proposte terapeutiche di questa malattia. Io non perderei altro tempo perché è una mattinata lunga e anzi inviterai tutti i relatori a stare nei tempi anche per dare spazio alla discussione, a domande o quant'altro. Per quello che riguarda il lichen genitale femminile, la prima relatrice è la dottoressa Veronica Buero che è responsabile non solo dell'ambulatorio di patologia vulvare del Policlinico di Milano, ma anche di un centro di riferimento per la diagnosi e la cura del lichen genitale femminile, in un nostro recente incontro ho potuto constatare con mano non solo la casistica davvero impressionante di questa collega, ma proprio che ha accumulato in clinica Mangiagaldi, ma la passione con vere e proprie, chiamiamole pure scoperte, fra virgolette forse non scientificamente eclatanti per carità, ma sicuramente praticamente utili e che potrebbero offrire ampi spazi di ricerca e spunti innovativi. Veronica a te la parola. Grazie Carlo, buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Vercellini, il dottor Liverani e gli organizzatori del Mangiagalli Journal Club per l'opportunità che ci hanno dato di approfondire una branca ancora della ginecologia ancora oggi così poco conosciuta. Quando parliamo di lichen vulvare, in realtà stiamo parlando di tre patologie ben distinte, il lichen simplex, il lichen planus ed il lichen scleroso, su cui ci concentreremo oggi. Il lichen simplex è una semplice reazione irritativa conseguente ad uno stimolo di varie origini che crea un circolo vizioso di prurite gratamente. Può essere localizzato in diversi distretti corporei, tra cui l'area genitale. Il razionale della terapia è l'interruzione del circolo vizioso, del prurito, mediante creme cortisoniche topiche, antistaminici ed emollienti. Come potete vedere nell'immagine qui alla mia sinistra, il lichen simplex si manifesta a livello genitale prevalentemente a livello dell'acute e delle grandi labbra, mentre piccole labbra, clitore e dentro il trovuvuvio vaginale risultano normali. La trasformazione neoplastica in questo tipo di patologia è assente. Il lichen planus è una malattia decisamente più importante, una dermatosi erosiva di probabile origine autoimmune, localizzata in diversi distretti corporei, tra cui l'area genitale, caratterizzato da modificazioni del trofismo, dell'anatomia vulvare e una stenosi del terzo inferiore della vagina. Il razionale della terapia è una riduzione dell'infiammazione cronica che caratterizza la malattia e di conseguente una riduzione del sintomo e del rischio neoplastico che si attesta intorno al 4-6%. Ma veniamo quindi al focus del nostro incontro odierno, lichen sclerosus. Lichen sclerosus è una dermatosi di probabile origine autoimmune, identificata già nel 1887 da Allopoma, che soltanto solo circa 100 anni dopo, nel 1976, ha ottenuto la deminazione corrente. Può insorgere a qualunque età, si è persato per tanti anni che vi fosse un picco bimodale in epoca premenarcale, in epoca postmenopausale, ma abbiamo visto che la malattia si può manifestare trasversalmente a qualsiasi età. E dal 90% dei casi la localizzazione è prevalentemente genitale. È importante ricordare che una malattia cronica dura per tutta la vita ed è caratterizzata da un'alternanza di fasi di acuzie e lunghe fasi di remissioni. La trasformazione neoplastica di questa patologia si attesta intorno al 5-7% delle pazienti. Per quanto riguarda l'epidemiologia del lichen scleroso, è stato stimato che circa l'1,7% di tutte le pazienti che si regano una visita ginecologica ne sono affette e che circa 1 su 900 bambini è affetto dalla patologia. Inoltre un recente studio ha stimato un'incidenza annua di 14,6 casi su 100.000 donne. Come tutti voi sapete è considerata una malattia rara e gode di un'esenzione che è l'ARL0060, ma è davvero una malattia rara? Oppure le statistiche sono influenzate dal fatto che differenti specialisti, tra cui ginecologi, dermatologi, pediatri, urologi si occupano della patologia e spesso non comunicano adeguatamente. Dunque forse ci troviamo di fronte a una malattia che ad oggi è ancora sottodiagnosticata. E quali sono le principali criticità che incontriamo nella diagnosi? In primis sicuramente è una patologia poco conosciuta ad oggi, sia dai pazienti ma soprattutto anche dai clinici e dagli specialisti. In secondo luogo purtroppo l'esame obiettivo della vulva, che è un esame che è parte integrata dell'esame obiettivo ginecologico, è la parte a cui forse il ginecologo generalmente dedica poco tempo. E inoltre la vulvoscopia, che sarebbe l'esame di secondo livello deputato alla diagnosi della malattia, è purtroppo un esame operatore dipendente, che dipende dall'esperienza dell'ospiratore e non ha la possibilità di avere dei criteri diagnostici ben definiti, come ad esempio abbiamo per la colposcopia. Inoltre l'esame istologico a cui spesso noi ci affidiamo per avere un'ulteriore sicurezza diagnostica in questa patologia non sembra sempre essere utile. Infatti in letteratura vi siano opinioni discardanti circa l'affidabilità della biopsia vulvare nella diagnosi del lichen. Un interessante recente studio retrospettivo irlandese su 70 pazienti ha effettivamente riscontrato che in circa un terzo delle biopsie non soddisfacevano i criteri istologici per lichen scleroso, ovviamente di pazienti affetti. E questo potrebbe essere dovuto al fatto che l'aspetto istologico di un lichen in una fase iniziale può essere sovrapponibile a quello di un eczemo o di una vulvite a specifica. Quindi è molto importante, concludono gli autori, che mentre i reperti istologici classici possono confermare la diagnosi, quando ci troviamo di fronte a una biopsia a specifica non dovremmo escludere un sospetto clinico di lichen sclerosus. Io personalmente mi trovo molto in accordo con questa affermazione degli autori. Il meccanismo fisiopatologico che sottende lichen sclerosus è un processo complesso e multifattoriale in cui i fattori ambientali di varia origine agiscono su un background genetico e innescano una risposta autoimmune TL per mediata. Questa anormale risposta del TL per 1 crea uno stato infiammatorio cronico con conseguenti lesioni tessutali, lesioni microvascolari ed attivazioni delle vie del metabolismo dei fibroblasti che portano poi ad una sintesi anomala del collagene. Effettivamente questa sequenza patogenetica può spiegare l'efficacia dei trattamenti anti-infiammatori per lo più i corticosteroidi topici nel migliorare le alterazioni clinico-patologiche del lichen. In recenti studi di biologia molecolare è stato riscontrato effettivamente che il Transforming Growth Factor Beta che stimola la deposizione della matrice extracellulare ed è un noto mediatore della fibrosi nella sclerodermia è stato trovato sovraespresso in questi pazienti. Inoltre anche il GDF 15 che promuove l'attivazione dei fibroblasti è aumentato in numerosi studi su pazienti affetti. Inoltre è stato ipotizzato un coinvolgimento delle metalloproteinasi della matrice. Quindi effettivamente questa sintesi anormale del derma è effettivamente una caratteristica importante della patologia, vi è un'anomala deposizione del collagene di tipo quinto che quindi con una progressiva scomparsa delle fibre elastiche. Recenti studi nell'ambito della genetica e della familiarità hanno inoltre riscontrato un tasso di parenti di primo grado affetto da lichen scleroso che varia dal 5 al 12% che effettivamente se ci pensate è un dato estremamente elevato. E vi è inoltre un'associazione con geni che regolano gli antigeni HLA di classe seconda. Ma veniamo ai sintomi. I sintomi principali nell'adulto sappiamo è il prurito, accompagnato dal bruciore causato dalle piccole abrasioni in conseguenza del grattamento, associato ad una disparionia superficiale e talvolta alla disuria. I sintomi della bambina invece sono molto variabili e poco specifici. Spesso hanno una presentazione, si presentano tutti insieme, quindi un prurito, un bruciore, una disuria, un tipico dolore alla defecazione a causa di tutte le piccole lacerazioni che ci sono in sede perianale, disturbi del sonno, irritabilità, inappetenza che effettivamente abbiamo riscontrato essere molto frequenti perché la bambina ovviamente non verbalizza come l'adulto e quindi manifesta in maniera diversa. Qui in basso potete vedere un'immagine di una bimba arrivata alla nostra attenzione, affetta da lichen scleroso vulvare, della quale c'è stata una diagnosi differenziale con una violenza sessuale. Nelle immagini a destra, la stessa bimba post terapia a tre mesi a sei mesi con una remissione quasi completa delle manifestazioni cliniche. I seni clinici nell'adulto possiamo dividerli in due grosse categorie, le modificazioni anatomiche dell'anatomia vulvare e le modificazioni invece cutanee. Tra le modificazioni anatomiche più importanti la fimosi clitoridea, il riassorbimento delle piccole labbra, la fusione dei sorchi interlabiali ed un restringimento dell'osteo vulvovaginale che può essere graduale. Invece nelle modifiche cutanee ricordiamo la sclerosi, l'ipercheratosi, la melanosi, le lesioni da grattamento e le fissurazioni. I seni clinici della bambina sono leggermente differenti. Fortunatamente le modifiche dell'architettura vulvare sono iniziali, mentre tipico un alone madre per l'aceo, le lesioni da grattamento, un assottigliamento di atrofia delle mucose con aspetto traslucido e la classica manifestazione adotto. Anche qui potete vedere la stessa bimba a distanza di sei mesi post terapia con una regressione completa dei segni clinici. Ma tuttavia le prime manifestazioni dell'IKE non sempre corrispondono con quelle classicamente descritte come tipiche e vi presento questo studio recentissimo pubblicato sul General Genital Lower Tract Disease del 2022 in cui gli autori hanno proprio valutato in un'ampia casistica di 503 pazienti in epoca pre-menopausale con diagnosi istologica di LIC in quali fossero i sintomi iniziali e quale fosse il ritardo diagnostico. Come potete vedere l'età media di insorgenza dei sintomi è stata molto precoce, 27 anni e l'età media dalla diagnosi 32 anni, quindi sono stati in un ritardo diagnostico medio di 4-5 anni, assolutamente importante in linea con gli altri dati della letteratura. Di queste pazienti tra l'altro un dato interessante è che il 43% riferiva sintomi già in età pediatrica. E la cosa però che ci ha colpito di più è che i sintomi più frequenti non erano il tipico prurito, ma la dispare unia riferita dal 68% delle pazienti, le lacerazioni vulvari il 63%, mentre nei sintomi che hanno condotto poi la paziente dal medico, quindi la paziente che si è sentita autorizzata a esporre il proprio problema, c'era sì la dispare unia ma compariva al prurito. Inoltre il 66% di queste pazienti ha riferito che inizialmente è stata trattata con una diagnosi differente e spesso la vulvovaginite. Infatti in diagnosi differenziale ci sono le infezioni vulvari di vario tipo, le dermatite ed altre dermatosi. La progressiva cicatrizzazione da flogosi cronica può sovvertire irreversibilmente l'architettura no genitale e con un enorme impatto sulla qualità di vita delle pazienti. Partendo da questi presupposti abbiamo provato a ideare una classificazione che prendesse in considerazione proprio questo aspetto, le principali modifiche architetturali, tra cui la fimosi clitoridea è il coinvolgimento dei solchi interlabbiali e il restringimento dell'osteo voluovaginale. Per fimosi clitoridea si intende l'incappucciamento del clitoride con perdita di mobilità che nella nostra classificazione può essere assente nei casi iniziali, parziale o totale nei casi più importanti. Il coinvolgimento dei solchi interlabbiali inteso come fusione delle grandi labbra con le piccole labbra con progressivo riassorbimento delle stesse, anche esso può essere assente, parziale o totale quando vi è una scomparsa completa delle piccole labbra. E in ultimo il restringimento dell'introito voluovaginale, inteso come una formazione di sinecchie o restringimento del vestibolo che è stato classificato a seconda delle dimensioni tra 2 e 1 cm oppure un introito ridotto inferiore a 1 cm. Questa è la classificazione finale, potete vedere che vi è un grading da 1 a 5 in base alla gradualità delle modifiche anatomiche abbiamo preso in considerazione, quindi classificando poi il lichen in un lichen minim, medio, moderato, severo, estremamente severo. Qui vi riporto la visualizzazione grafica della classificazione con le varie esempi delle modifiche anatomiche e diciamo che la classificazione C va permesso nella pratica clinica una descrizione più omogenea e soprattutto riproducibile tra i vari operatori delle modificazioni architettoniche. una valutazione di un possibile progressione nel follow up della paziente ed è facilmente utilizzabile da tutti gli specialisti una volta però che la diagnosi è posta, quindi la classificazione CIV non serve per fare diagnosi di lichen. Noi abbiamo cercato di scrivere qualcosa sul cartello e un inizio, ci auguriamo che nelle prospettive future si possa effettuare, si possa creare uno score multidimensionale che prende sì in considerazione le modifiche artitetturali ma che comprenda i segni di alterazione cutanea e soprattutto i sintomi della malattia. Veniamo alla terapia. La terapia di attacco del lichen prevede, la terapia del lichen prevede una terapia di attacco, una terapia di mantenimento e soprattutto una modifica dello stile di vita. È inoltre fortemente raccomandato il trattamento al momento della diagnosi di tutti i casi compresi quelli asintomatici, questo per evitare la progressione di malattia. Il percorso terapeutico prevede principalmente due differenti fasi. Nella prima fase la terapia medica che è il gold standard terapeutico includendo in primis i corticosteroidi topici potenti ed ultrapotenti e uno spazio riservato agli inibitori topici della calcineurina meno potenti degli steroidi ma utili soprattutto in età pediatrica. La terapia chirurgica ha poco spazio ed è soprattutto limitata a quei casi in cui è necessaria un'escissione alla lama fredda o laser di lesioni sospette come le divine carcinomi oppure in quei casi in cui la chirurgia plastica è necessaria per stenosi e serrate dell'introito. Ed una fase 2 in cui si potrebbe prendere in considerazione la terapia rigenerativa perché ovviamente il danno la malattia l'ha fatto su questa cute quindi sicuramente la terapia d'attacco, la terapia medica cura la fase acuta della malattia, riduce la sintomatologia ma non si occupa del rigenerare questo tipo di cute, riportare elasticità e ricreare quindi dare un ulteriore benessere alla paziente. Tra le terapie rigenerative sappiamo che ultimamente vi sono tanti studi nell'ambito dell'ipofilling, il trapianto di tessuto adiposo, nell'ambito dell'iniezione locale del plasma ricco di piastrine, il PRP e la laser terapia. Questo però sarà oggetto del nostro secondo incontro del 15 ottobre. Per quanto riguarda la prima fase quindi la terapia medica all standard sappiamo che vi è accordo universale in letteratura per quanto riguarda la terapia di attacco quindi steroidi topici potenti, ultrapotenti dove le linee guida britanniche suggeriscono una terapia per tre mesi a scalare, mentre le linee guida europee suggeriscono sì un'applicazione per tre mesi ma quotidiana senza scalare. Quello in cui non vi è accordo in letteratura se effettuare o meno la terapia di mantenimento in queste pazienti quindi farla, non farla, per quanto tempo. Al proposito le linee guida britanniche si esprimono proponendo un utilizzo al bisogno solo in quei casi in cui la paziente rimanifesta i sintomi o via una ripresa clinica della malattia. Mentre le linee guida europee suggeriscono un utilizzo due volte alla settimana sine die al fine di mantenere la remissione della patologia e prevenire il rischio oncologico stimato più o meno intorno al 5-7%. Come si posizionano le linee guida americane? L'American College of Obstetrician and Gynecology suggerisce, riprende un pochino le linee guida europee. Quindi suggerisce la terapia di attacco corticosteroide topiche, suggerisce di rivalutare la paziente a un mese e valutare l'andamento della malattia per decidere la durata, mentre sulla terapia di mantenimento generalizza e propone di utilizzare il dosaggio possibile più basso per il mantenimento della risoluzione della sintomatologia. In ultimo vi riporto brevissimamente uno studio che abbiamo effettuato presto alla nostra clinica per valutare sul lichen scleroso in età prepubere nelle bimbe. Il titolo del nostro studio era Preditore o precursore della malattia dell'adulto? È uno studio retrospettivo osservazionale su 62 pazienti a cui è stata posta in età pediatrica negli anni 1990-2011 una diagnosi di lichen nell'infanzia. Queste bimbe di allora, oggi adulte, sono state tutte rivalutate nel 2021 e sottoposte ad una valutazione clinica e da dei questionari per vedere il decorso naturale della malattia, quindi capire se fossero andate incontro a guarigione della malattia o se vi fosse stata una persistenza. Vi presento i risultati. Nel 56% abbiamo riscontrato una persistenza di malattia intesa come presenza di segni e sintomi di lichen sclerosus. Nel solo il 18% dei casi abbiamo riscontrato una guarigione, quindi con un'assenza di segni e sintomi, e in un 26% dei casi ci siamo trovati in difficoltà, abbiamo definito queste pazienti in un'area grigia, descritta come pazienti completamente asintomatiche ma con presenza di segni clinici di lichen sclerosus. Come interpretare i risultati di quest'area grigia? Sono pazienti guarite ma con esiti anatomici della malattia in età pediatrica o è una malattia tuttora presente ma come abbiamo ricordato prima che attraversa lunghe fasi di quiescenza e quindi al momento del ricontrollo in una lunga fase di quiescenza? Per rispondere a questa domanda ovviamente sarà necessario il follow up nel tempo di queste pazienti. Comunque sì, il lichen scleroso dell'infanzia sembrerebbe quindi essere un preditore e non un precursore dell'ichen in età adulta ed è importante sensibilizzare gli specialisti pediatri, ginecologi e dermatologi sull'elevata persistenza della malattia in epoca adulta e quindi è necessario proseguire il follow up anche dopo la risemissione della sintomatologia in età pediatrica. Per concludere mi sento di ricordarvi che è una patologia caratterizzata da sintomi invalidanti, sedere modifiche dell'anatomia vulvare, rischi aumentato di trasformazione neoplastica quindi con importanti conseguenze sulla qualità di vita della donna ed è una malattia da non sottovalutare. Vi sono ancora ampi spazi di ricerca nell'ambito del lichen e dobbiamo sensibilizzare tutti gli specialisti sull'elevata sottodiagnosi della malattia. Lascio la parola al professor Priti che ci parlerà della trasformazione neoplastica associata alla patologia. Grazie per l'attenzione. Mi sentite? Mi sentite? La sentiamo. Ecco allora avete visto che è una cosa veramente molto più complessa che richiede una multidisciplinarietà che deve mettere da parte dei protagonismi ma deve richiedere una grande collaborazione. Complimenti per le immagini. Adesso, come ha detto la Veronica, incrociiamo Mario Preti che è professore associato di ginecologia ostetricia all'Università di Studi di Torino che oltre che è un caro amico, past president dell'International Society for the Study of Vulvo Vaginal Disease. A te Mario. Grazie, grazie Carlo. Grazie a professor Vercellini e complimenti alla dottoressa Boero che ha introdotto l'argomento, ha dato degli spunti sulla terapia che ovviamente quella cortisonica ha una storia. La parte diciamo europea è un po' più prudente di quella americana e ha una storia maggiore. Così come per gli screening del certificato cinoma guardiamo molto all'Europa che ha una storia maggiore delle americane. Insomma, quando Cristoforo Colombo è arrivato là erano tutti con le braghette e noi avevamo già scritto poemi. Quindi guardiamo molto agli europei perché la scuola britannica è molto attente e prudente e le linee guida inglesi sono uscite prima di certi lavori ancora importanti e che stanno uscendo. Quindi dobbiamo dire alla paziente che non riusciamo a curare definitivamente la malattia. Riusciamo a ridurre la sintomatologia, prevenire e benvengono questi studi controllati per le nuove terapie per prevenire ulteriori alterazioni anatomiche, ma soprattutto il nostro obiettivo, e faccio il poliziotto cattivo, è ridurre il rischio oncologico perché, come è stato accennato, il lichen sclerosus ha un rischio oncologico e questo è messo nelle linee guida che ha fatto vedere la dottoressa Boeri, negli tre punti principali delle linee guida britanniche, la riduzione del rischio oncologico. Quindi se c'è un rischio e c'è un rischio oncologico dobbiamo continuare a classificare il lichen sclerosus che ha questo rischio di trasformarsi come una precancerosa come una dermatosi. Quindi la definizione di tanti anni fa di precancerosi è un tessuto che è morfologicamente differente dal normale e che è associato a un aumentato rischio di cancro. Bene, questa è la classificazione delle SSWD del 2006, di tanti anni fa, però ancora colloca lichen sclerosus tra le dermatosi. Con l'idea della precancerosi ho mandato una mail a Peter Lynch per chiedergli che cosa ne pensasse e lui da grande esperto, dermatologo americano mi risponde, penso che veramente il lichen sclerosus e il lichen plano debbano rimanere classificati tra le dermatosi perché sull'acute delle altre parti del corpo non hanno un rischio di trasformazione, ma ce l'hanno a livello vulvare perché è molto verosimilmente associato a un'infiammazione cronica, quindi il rischio oncologico legato all'infiammazione cronica. Per questo vedremo il cortisone riduce il rischio oncologico perché riduce l'infiammazione e il danno genetico da infiammazione, perché l'epidemiologia ci dice che il lichen sclerosus ha un rischio oncologico. Questo è uno studio finlandese della Pialonen su 7600 pazienti, seguite vedete la facilità del nord Europa che loro hanno un codice nazionale anche per le patologie non oncologiche, quindi incrociando il registro tumori con il registro di patologia, hanno ottenuto questo, hanno ottenuto che gli osservati sugli attesi sono stati molto più alti a livello della vulva che in tutto il resto del corpo e in particolare la standard side incident risk per il carcinoma squamoso vulvare è stata di 40 volte per le pazienti affette da lichen sclerosus vulvare, quindi una vera lesione a rischio e in particolare l'eccesso di rischio aumentava con il progredire dell'età. Quindi attenzione a un primo campanello d'allarme, attenzione alle pazienti più anziane. Perché? E questo è un altro campanello d'allarme, quando leggiamo gli studi cerchiamo di leggere la lunghezza del follow up per avere un'idea perché il proverbio cinese dice potete ingannare tutti per qualche tempo, potete ingannare qualcuno per sempre ma non potete ingannare tutti per sempre. Bene, lichen sclerosus è una patologia che a lungo andare ci dà dei dispiaceri se non è controllata e non è seguita. Vedete, partendo da 0, 1, 2 anni la probabilità di degenerazione è bassa, se tagliamo a 10 anni è già del 3%, ma se questa stessa curva la tagliamo a 10 anni per donne sopra i 70 anni andiamo a quasi il 6%, quindi attenzione alla lunghezza del follow up, attenzione all'età delle pazienti. Questa era la nostra casistica di qualche anno fa, di circa 1000 lichen sclerosus seguiti per una media di 4 anni e vedete che con la lunghezza del follow up aumenta la probabilità cumulativa di progressione neoplasia. È vero che c'è il grosso bias che se si fanno seguire per tanto tempo, non essendo chiamate attive, è probabile che questi siano i lichen sclerosus peggiori, quelli che rispondono meno alla terapia e hanno un maggior rischio. Comunque attenzione alla lunghezza del follow up. Lo stesso ci dice un'altra importante scuola con un SIR di quasi 40 a Ferrara con la professoressa Corazza che è già stata citata negli studi riportati dalla dottoressa Boero. Allora cosa chiediamo a noi poveri clinici? Vedete un bravissimo clinico, Ronald Jones della Nuova Zelanda, ci dice qualche anno fa attenzione l'età della paziente e la presenza di queste aree di perplasia epiteliale sono gli unici due punti che dal punto di vista clinico possono rappresentare un rischio di trasformazione. Quindi questo rischio di trasformazione tra il 2 e il 7% e questo studio inglese ci dice che la terapia corticosteroide topica può modificare questo corso della terapia. Vedete, le pazienti complianti alla terapia con un follow up abbastanza lungo perché di quasi 5 anni in nessuna paziente è comparsa o una VIN o un carcinoma invasivo, al contrario delle pazienti parzialmente complianti. Quindi l'importanza della terapia cortisonica a lungo termine, lo diciamo noi europei prima che lo dicano fra qualche anno gli americani perché ci verranno dietro di sicuro. E l'importanza anche di controllare la paziente perché nelle 7 pazienti poco complianti che hanno sviluppato carcinomi o VIN differenziati. Ebbene, 3 su 7 erano asintomatiche, quindi non dobbiamo aspettare che il sintomo sia una nostra guida perché il cortisone molto spesso toglie il sintomo, ma se non è applicato correttamente nei protocolli corretti può non impedire la degenerazione neoplastica. Quindi il passaggio, e andiamo verso la chiusura, il passaggio dal lichen sclerosis, al carcinoma invasivo, è la via non HPV correlata, è la via che passa attraverso la VIN differenziata, quindi pazienti più anziane con una prognosi peggiore, con più frequenti recidive e una progressione più rapida rispetto alla VIN, la VHC, la VIN HPV correlata. Le classificazioni SSVD, a VHC, quella HPV correlata, VIN differenziata, quella non HPV correlata, la più recente del WHO che parla di HPV associated e HPV independent, includendo queste tre categorie in cui i patologi sono un po' meno esperti nel DEVIL e nel VAD e vogliamo che diventino molto esperti nella VIN differenziata per diagnosticare il passaggio non HPV correlato al carcinoma vulvare. Perché se ne trovano poche di VIN differenziate, ma vedete l'età media è molto vicina a quella del carcinoma, quindi abbiamo una fase pre-invasiva molto rapida. Dobbiamo seguire i nostri lichen sclerosis per identificare le eventuali VIN differenziate prima che diventino carcinoma invasivi. Perché? Perché la VIN differenziata, bellissimo questo studio olandese, ci dice che geneticamente le alterazioni della VIN differenziate sono solo in numero più basso rispetto al carcinoma invasivo, ma sono le stesse sostanzialmente, a differenza della lunga strada che ha la VIN HPV correlata e incomincia con alcune alterazioni cromosomiche che poi devono essere aumentate sia di numero che di frequenza. Quindi una strada più lunga per intercettare l'oncogenesi HPV correlata rispetto alla strada molto breve della VIN differenziata. E geneticamente, vedete, c'è poca differenza tra la VIN differenziata e il carcinoma invasivo. Ci saranno possibilità di identificare queste mutazioni in un prossimo futuro? Verosimilmente sì e dovremo seguire questi studi perché sarà importante per la diagnosi delle VIN e, vedete, per la diagnosi anche dei carcinomi invasivi per avere anche, soprattutto per NOCT-1, ACARAS, possibili target quando la paziente, target terapeutici, quando la paziente svilupperà un carcinoma invasivo. Quindi il nostro goal è di identificare nel follow-up del Likensky-Rosur la VIN differenziata, la DEVIL o la VAD, prima della progressione, perché ha un tempo di transito molto rapido e ha un rischio di degenerazione molto più alto della VIN HPV correlata. Non vedete? Se parliamo soltanto di VIN è questa la curva, ma quando distinguiamo le HPV correlate dalle non HPV correlate vedete come cambia e come sia imperativo fare molto in fretta e quindi seguire molto bene le pazienti. Vediamo da ultima carrellata qualche VIN differenziata che insorgono molto spesso solitarie, come piccoli nodule e placche tra 1 e 5 cm, tendenzialmente sono bianche, sono queste in ambito di Likensky-Rosur, vedete la bella classificazione che avete fatto col CIV, può aiutarci nel cambio anatomico, allora quando è un grado più elevato cerchiamo di identificare queste VIN differenziate e scenderle. Ancora casi di VIN differenziata, ancora casi di VIN differenziata, difficile per il patologo da identificare perché l'ATP è limitata agli strati basali, facile trovare una VIN HPV correlata, tutto lo spessore è legato all'ATP, molto più difficile in questo punto, quindi la biopsia ci trova queste ATP basali, ma difficile da differenziare dal Likensky-Rosur sulla VIN differenziata, tanto che questo studio olandese hanno seguito pazienti nelle cui biopsie il patologo diceva è Likensky-Rosur, hanno sviluppato un cancro invasivo, queste biopsie riviste nel 42% si è dovuto ricredere al patologo e non era un Likensky-Rosur ma una VIN differenziata, quindi ci devono essere dei criteri, questo studio che abbiamo fatto con gli SSWD ci aiuta, aiuti i patologi che devono vedere anche il muscolo, il polmone, l'utero e non sono dedicati solo alla patologia vulvare, ci sono delle caratteristiche che aiutano nella diagnosi differenziale con le VIN differenziate e ci sono dei criteri in cui la statistica K aiuta i patologi, descriviamo queste cinque categorie, le ATP, le mitosi atipiche nello strato basale e le altre caratteristiche che i patologi devono tenere in considerazione per la diagnosi. Teniamo anche in conto questo, attenzione a biopsia, era una VIN differenziata, questa è di una decina di anni fa, della nostra casistica, su circa 70 VIN differenziate, il 70% era alla biopsia escissionale, questa è la biopsia incisionale, questa è la biopsia escissionale perché l'abbiamo tolta tutta, più della metà erano già piccoli carcinomi invasivi, quindi non fidiamoci di una biopsia incisionale e scendiamo completamente. Infatti questo recentissimo lavoro che abbiamo pubblicato con l'ESGO ci dice che non c'è spazio per la terapia medica nella VIN differenziata, dobbiamo escenderla completamente con margini negativi e seguire la paziente. E ancora una raccomandazione è dopo l'escissione su un campo di lichen sclerosus o di lichen planus è importante continuare la terapia medica cortisonico ad alta potenza per ridurre il rischio di recidiva o di progressione. Bene, questo era del 1998 della scuola inglese della Yorna Ross che diceva la paziente deve riportare ogni nuovo segno, noi dobbiamo seguirla per tutta la vita. Probabilmente potremmo essere in grado, grazie a studi e ancora alla scuola di Ferrara, sull'ipermetilazione del lichen sclerosus, di certi lichen sclerosus, seguire in maniera più dettagliata e più frequente pazienti a maggior rischio e quindi riusciremo a identificare ancora prima dello sviluppo della VIN differenziata i lichen sclerosus a rischio di trasformazione neoplastica, per arrivare a una stratificazione del rischio e non seguire tanto le pazienti a rischio basso, in pratica capire quando questo diventa questo prima che lo diventi. E mi piace riportare, per chiudere un po' il cerchio, visto che è di provenienza Mangiagalli, il caro Mario Sideri, a questo lavoro lui teneva molto alla stratificazione del rischio per guidare la prevenzione del cancro cervicale. Bene, è un lavoro di 15 anni fa che è ancora molto valido per la parte cervicale, dobbiamo riuscire a lavorare insieme, superando i vari gruppi per arrivare a una stratificazione del rischio in modo che la paziente a vero rischio di trasformazione neoplastica che c'è nel lichen sclerosus abbia il miglior trattamento e il miglior fatto dell'OAP. Grazie ancora per l'invito e la moderazione a te Carlo. Tolgo la condivisione. Complimenti Mario per la chiarezza, qui è un problema veramente impegnativo, speriamo di poter organizzare in clinica Mangiagalli un incontro in presenza e approfondire tutte queste tematiche in una giornata intera. Allora, come io dico sempre, l'evidence, non è che lo dico io, cioè si sa che l'evidence based practice è divisa in ugual misura tra evidence based medicine, quindi i dati della letteratura scientifica disponibili, trial, randomizzati, revisioni della letteratura, quindi la parte pubblicata, in ugual misura con la parte che è l'esperienza degli operatori, ma anche sempre in ugual misura con il dissuto della paziente, i suoi desideri e qui introduco appunto Muriel Ruffano che è la presidentessa dell'associazione italiana lichen sclerotrofico, la LISCLEA, che ci porterà l'esperienza, se non sbaglio, di oltre 3.000 pazienti, dico bene? Sì, buongiorno a tutti, grazie dottor Riverani, circa sì, siamo lì, ma probabilmente anche di più, ma tra appunto il gruppo e tra le melche che ci giungono regolarmente. Ecco, questo è molto interessante, per cui siamo tutti ansiosi di sentire la parola dei pazienti. Prego. Grazie, quindi per me è un piacere essere qui tra voi per parlarvi della nostra realtà e delle esigenze dei malati di lichen sclerosis e vogliamo oggi ringraziare caldamente il Mangiagalli Journal Club per l'opportunità che offre alla nostra associazione di fare sentire la sua voce. Lichen sclerosis, come già detto, è considerata a tutti gli effetti una malattia rara dotata da un suo codice specifico RL0060 e viene trattata nei diversi centri di riferimento in tutta Italia, che sono circa una settantina, da dermatologi, urologi, ginecologi, oltre che da psicologi. In questi ultimi anni ci siamo resi conto delle enormi difficoltà riscontrate ogni giorno dalle persone affette da lichen sclerosis, sia nel campo della diagnosi sia in quello delle cure. Abbiamo soprattutto capito che di questa patologia non si parla abbastanza e che i tempi diagnostici sono ancora decisamente troppo lunghi. Sappiamo invece quanto sia importante la rapidità per iniziare a trattarla. ecco perché a metà del 2018 abbiamo costituito l'ISCLE, associazione di pazienti. Siamo partiti da un gruppo di poche decine di persone, molta timidezza e probabilmente pochissima voglia di aprirsi. Ci siamo resi conto che per pudore, per paura, centinaia e centinaia di persone non ne parlavano nemmeno in famiglia, andavano poco o malvolentieri a farsi visitare, perdendo così un tempo prezioso e possibilità di arginare la malattia nella sua evoluzione. abbiamo realizzato che il tempo diagnostico a volte, appunto, come già è stato ampiamente detto, supera i tre anni e che questa patologia viene troppo poco studiata. Sappiamo inoltre un'altra cosa. Il lichen sclerosis è doloroso e deprimente, crea molta ansia e preoccupazione fisica e psicologica. E questo anche perché è noto ormai, una volta scoperta, questa patologia ci seguirà e ci accompagnerà per tutta la vita, tra periodi di remissioni o di forte attività. Ora sappiamo anche che il lichen non è più, appunto, la malattia delle donne in menopausa, ma colpisce purtroppo, oltre a donne, uomini, adulti e anziani, anche bambini molto giovani, come detto dalla dottoressa Boiro. Dalla creazione di l'ISCLEA sono trascorse ormai cinque anni e le richieste piovono da tutte le parti d'Italia, ma non solo, aggiungo anche dall'estero, sia sulla nostra posta, sia per entrare nel gruppo formato da soli pazienti. Un gruppo che serve per capire, per sfogarsi, ma soprattutto per confrontarsi, aiutare le persone ad orientarsi. Da allora abbiamo fatto e continuiamo a programmare interviste, partecipiamo a congressi, cerchiamo di divulgare tramite il nostro sito il possibile sull'argomento a caccia costante di chi conosce, capisce, segue e tratta questa malattia. Se mi rivolgo a voi quest'oggi è perché noi possiamo orientare le persone affette dall'ICAN verso i centri di riferimento, fondamentali per le visite, conferme diagnostiche e definizioni dell'iter terapeutico. Possiamo indicare i malati, i medici a conoscenza della malattia, ma dobbiamo assolutamente ampliare questa lista. Il lichen scleroso è una malattia dermatologica cronica caratterizzata da un rischio dal 5 al 7% di evoluzione e neoplasia maligna. Forse questa percentuale non è altissima, ma si tratta comunque di una precancerosa. Ricordate sempre, e parlo anche ai ginecologi o ai medici presenti, che quando entra nel vostro studio un paziente con lichen tornerà da voi e lo seguirete appunto a vita. Molto del nostro benessere dipende dunque da voi e dalla vostra conoscenza riguarda una malattia troppo poco evocata, alla quale spesso non si pensa quando si è di fronte a un paziente che riferisce prurito, fessurazione, macchie perlace, una lieve atrofia, tra i vari esempi come nel caso della donna, della paziente menopausa. C'è da poco pervenuta la mail di una signora che accusava un forte peggioramento della sintomatologia e alla nostra domanda perché non si è fatta visitare regolarmente? La risposta è stata, sono testuali parole, la mia ginecologa mi ha detto non ci pensare, vivi tranquilla e una cavolata. No, non è affatto una cavolata, si tratta di una malattia cronica che può ostacolare movimenti, limitare azioni banali quali sedersi, alzarsi, impedire molti sport, creare dolore, fastidi perenni, dare un prurito spaventoso, creare lacerazioni, stenosi, fimosi, limitare i rapporti di coppia a una vita sentimentale completa, oltre alla possibilità di una gravidanza serena. Si tratta dunque di una malattia che richiede una tensione costante e di una diagnosi in tempi rapidi, in modo tale da evitare molti fastidi e molte modifiche anatomiche di grande impatto, sia fisico che mentale. Insistiamo molto su questo punto, è fondamentale durante le vostre visite e colloqui con i pazienti tenere sempre presente la possibilità di un lichen, malattia molto più presente di quanto non immaginiamo nemmeno noi. L'associazione appunto nate con poche decine di persone raccoglie dai 2 ai 3 mila pazienti, c'è un po' un range tra coloro che sono nel gruppo che entrano e escono, quelli che sono presenti e anche le persone fuori che ci scrivono sempre di più. Infatti abbiamo ricevuto una media di 5-6 persone che ci contattano via mail per esprimere la propria preoccupazione, dubbio, per sentirsi meno spaesati o semplicemente per comunicarci di aver finalmente ricevuto la diagnosi. In conclusione vorrei segnalare l'importanza dell'iter post diagnosi. È davvero importante indirizzare i pazienti affetti dall'ica sclerosus presso i centri di riferimento preposti al fine di poter garantire a tutti l'accesso all'esenzione al piano terapeutico e i controlli regolari e frequenti. Ringrazio tutti per la cortesa attenzione. Ringraziamo appunto Moriel per avere portato questa esperienza dei pazienti e per essere stessa nei tempi stabiliti. Perché adesso appunto c'è la parte maschile che dirà presentata dal dottor Stefano Lauretti che è responsabile dell'andrologia chirurgica e medicina regenerativa della Santa Catrina della Rosa, centro multidisciplinare chirurgico, Asl Roma II, che anche lui pare, cioè penso che si possa dire che abbia forse la massima casistica dei maschi con licche, o sbaglio? Questo non lo so, ma sicuramente tra le più ampie. Grazie, buongiorno a tutti. Attivo la condivisione. Allora innanzitutto grazie di nuovo a chi mi ha invitato, chi mi ha presentato e vi complimento anch'io per questa iniziativa che un po' mi riporta da mente quei terribili grand round che facevamo in America di concentrazione di menti, di notizie, di informazioni che dovrebbero essere molto più numerose, perché questo è un tema che sicuramente lo richiede. Mi sono preso la libertà di condividere con voi, non vanno avanti le diapositive, ecco sì, scusate, mi sono preso la libertà di condividere con voi forse in modo non completamente ortodosso, però spero più interessante, alcuni punti chiave che secondo me sono molto importanti, soprattutto dal punto di vista dell'urologo e andrologo, in particolare la sottostima della patologia di cui si è, mi sembra abbondantemente parlato, alcuni aspetti clinici importanti che fanno da link tra la patologia e altre che l'uroandrologo normalmente gestisce, il bisogno di una classificazione ad oggi è ancora assente e alcuni sceni su alcune terapie chirurgiche speciali che credo interessanti. Che sia una patologia sottostimata, mi sembra che questo sia emerso in letteratura, ma anche da quello che è stato detto, e per l'uomo questo aspetto è ancora più importante, soprattutto come avviene in altri contesti medici, nell'ambito uroandrologico è ancora più presente e sentito, nonostante ci si confronti con dei numeri non particolarmente drammatici come evidenzia ad esempio questo studio recente a proposito della prevalenza della patologia fimotica. Tuttavia, nonostante quanto è stato detto, la incidenza attuale dell'ichen sclerotrofico maschile e sclerosus maschile si sia stabilizzata intorno allo 0,07 al 0,3%, possiamo dire oggi, credo a ragion veduta, soprattutto da quanto ci viene dalla clinica, che è veramente difficile accertare l'esatta incidenza e prevalenza dell'ichen, probabilmente perché è paradossalmente, e questo è un paradosso gestito da molte specialità che pur competenti non parlano tra di loro, sia come in presenza di monadi a un po' autoreferenziali che non scambiano conoscenze, esperienze tecniche e questo certamente può peggiorare l'emersione della patologia. Si associano a questo i classici sentimenti che l'uomo prova entrando in un ambulatorio urologico, quindi vergogna, paura, tempi assistenziali e tempi personali di presentazione allo specialista incredibilmente lunghi, che portano ad un mancato riconoscimento e quindi una mancata e ritardiata diagnosi. Nella nostra casistica considerate che il tempo medio di attesa dalla comparsa dei sintomi alla diagnosi è di quasi due anni. Questa è molto importante soprattutto perché le colpe non stanno soltanto da una parte, oggi si è parlato già da poco fa dell'esame istologico e c'è un disquisire su questo, magari potrà essere un argomento di discussione dopo, sul fare o non fare nell'occasione di una circoncisione l'esame istologico. Qui io riporto un lavoro che mostra dove sostanzialmente su 110 bambini operati senza aspetti clinici, che ovviamente non sono questi, di lichen sclerosus, questa patologia era presente in una percentuale decisamente alta, quasi il 35%. Oltre a questo è la nostra esperienza quotidiana che mostra come spesso, quello che appare visivamente poi non appaia tale all'esame istologico se fatto, o nella storia clinica. Oltre a questo ovviamente è importante anche saper riconoscere una patologia quando questa patologia fa del tutto per mostrarsi. Questo è un paziente che mi è stato immandato con indicazione a fare una plastica del frenolo. E questo è importante perché l'obiettivo che noi ci dobbiamo proporre, ci dovremmo proporre, è quello di evitare di giungere a dei quadri anatomici complessi, non solo anatomici, ma anche e soprattutto funzionali. Passando invece all'aspetto clinico, quello che credo che sia oggi condivisibile, facendo un pochino di mea culpa e autocritica, è che l'interesse e l'attenzione clinica e scientifica dell'urandrologo rischi di ritenere alcune patologie genitali di minore importanza o comunque avere quasi più un'importanza estetica piuttosto che funzionale. Nonostante ci siano alcune condizioni con cui l'urologo si confronta quotidianamente nel gestire ad esempio una ostruzione urinaria, una prostatite, una disfunzione rettile, un calo del desiderio che riconoscono con il lichen numerose matrici comune. E così ugualmente dei ritardi nella diagnosi e quadri clinici cronici e o avanzati finiscono per comportare più delle volte un aumento ingiustificato delle difficoltà chirurgiche con cui poi ci si trova a che fare nei casi avanzati e soprattutto il ricorso a delle scelte terapeutiche sbagliate o gestite istericamente dal paziente e in maniera non competente o con altri interessi da parte di specialisti. Quindi come vedete sia che parliamo di LATS, cioè di disturbi urinari e di disfunzioni sessuali, sia a maggior ragione se parliamo del lichen sclerotrofico genitale maschile, la condizione è uguale. Ipertrofia prostatica, stenosi uretrali, esiti chirurgici sono tutte condizioni spesso associate ad una incontinenza urinaria che non necessariamente si deve presentare copiosa, ma tra i fattori causali dello sviluppo e della progressione di un lichen, oggi la cosiddetta microincontinenza è in grado di esporre quasi sempre in modo cronico il prepuzio ad una sollecitazione chimica irritante, per lo più nella parte distale, quella che sostanzialmente rimane chiusa e quindi ovviamente nei pazienti non circoncisi, una correlazione questa che è stata dimostrata anche da studi abbastanza recenti con spettroscopia ad alta definizione in cui molti componenti chimici dell'urina sono stati riscontrati nei prelievi cutanei dopo circoncisione. Un altro aspetto che a me sembra molto interessante e questo è uno sviluppo che noi stiamo portando avanti al centro facilmente sottoponendo al prelievo al dosaggio ormonale tutti i pazienti con lichen conclamato è il rapporto tra la diminuzione dimostrata del diidrotestosterone, questo è un lavoro dell'84, e la presenza e sviluppo del lichen sclerosus. Considerando che l'urologo ha tra le sue armi terapeutiche l'inibitore della 5 alfa reduttasi e quindi mira ad un calo della diidrotestosterone nei confronti della sua azione topica periferica a livello della ghiandola prostatica, è possibile chiederci se questo possa rappresentare o meno un cofattore eziologico. Tra l'altra parte è abbastanza evidente come supporto della disattenzione del mondo urologico e la sovrapposizione quasi perfetta in termini di fasce di età, di incidenza e di rapporto causa-effetto di alcune delle patologie più frequentemente trattate, solo che tuttavia solo alcune sono adeguatamente diagnosticate e gestite. Fra l'altro, pur essendo stato dimostrato in modo inequivocabile il peso limitante del lichen nella sessualità maschile a causa del dolore che si prova in erezione e della conseguente perdita di desiderio sessuale, la attenzione nei confronti di questi pazienti è veramente ancora assolutamente insufficiente. Tra l'altro il misconoscimento di quadri evidenti come quelli che voi vedete alla vostra sinistra, in alto un ragazzo di 18 anni, in basso un ragazzo di 35, di circa 40 anni, possono portare anche in fasce giovanili e ancora in età sotto dei 50 anni, anche a delle conseguenze di natura psicologica e relazionale laddove il danno locale può venirsi a configurare anche in un alterato percorso di sviluppo o di vissuto psicosessuale. Come se non bastassero queste considerazioni, già in parte se ne è parlato nell'ambito femminile, non va dimenticato il ruolo eziologico del lichen nella genesi del tumore del pene e in particolare nel suo istotipo a cellule squamose o verrupose, come ben sottolineato nelle ultime linee guida dell'Associazione Europea di Urologia, in cui la degenerazione di un lichen, nonostante le basse percentuali, possono variare tra il 4 e l'8% e comunque tuttavia non vanno assolutamente misconosciute e non considerate perché al di là dei corsi particolarmente gravi, anche con esito potenzialmente in fausto, soprattutto sono importanti perché causano il ricorso a una chirurgia demolitiva particolarmente pesante e limitante per l'uomo da tutti i punti di vista. Per questa ragione abolire il rischio di carcinoma del pene, come citano le ultime linee guida dell'Associazione Inglese di Dermatologia, è o dovrebbe almeno essere uno dei principali obiettivi della terapia dell'ichen sclerosus. Quindi alla fine, nonostante tutte queste premesse, dobbiamo considerare l'urologo-andrologo come l'anello debole della catena diagnostica e terapeutica? Certamente no e non è solo perché sono di parte, perché serve sicuramente un ripensamento da parte dello specialista sul comportamento procederale diagnostico nei confronti del paziente che entra nel suo ambulatorio. Lo dego adesso e lo ripeterò dopo, devono essere sempre visitati i genitali anche se si accede per altre patologie. Personalmente ritengo, alla luce di quello che ho detto, che sia importante eseguire sempre un'analisi testologica del prepuzio. Questo ci permetterà di effettuare diagnosi precoci e quindi un precoce trattamento e al contrario ogni ritardo può aumentare notevolmente rapidamente la gravità del quadro. Non serve in un primo tempo essere specialisti di particolare competenza nell'abito dell'ichen. Bastano poche domande circa il tempo di persistenza della patologia, se il paziente avverte determinati sintomi specifici come il bruciore o il prurito o se ha dolore nella fase erettiva. Per quanto riguarda la biopsia, come ha già sottolineato la dottoressa Boero, ci sono ancora, soprattutto nell'ambito anche maschile, molte incertezze, molte idee controverse. Personalmente, rifacendomi anche alle linee guida più recenti a livello europeo, condivido questo aspetto, anche perché da urologo toccare il prepuzio in una condizione già in cui il prepuzio può presentare aree di fibrosclerosi, potrebbe questo peggiorare il quadro. La biopsia, a mio parere, così io mi comporto, si esegue solo in sospetto di neoplasia, in mancata risposta di una terapia atopica, in sospetto di lichen extra genitale, in presenza di aree pigmentate atipiche, in caso di una terapia di debulking, in condizioni particolarmente compromesse in soggetti particolarmente anziani, o in previsione di una chirurgia uretrale, di uretroplastica. Mentre invece l'esame istologico dovrebbe essere obbligatorio nell'ichen, sempre in presenza di una obiettività clinica anche normale, come è stato detto, soprattutto perché oggi siamo sempre sotto la lente medico-legale particolarmente pressante. I problemi non sono soltanto dello specialista urologo, al di là di quella che può essere una semplificata evoluzione del quadro dermatologico, quello che io leggo nei referti istologici che mi arrivano, da anatomopatologi diverse, sono le più ampie variabili, questo per dire che nello sforzo che si dovrebbe compiere, sempre in un ambito plurispecialistico, ci dovrebbe essere anche quello di condividere dei referti comuni associando diverse classi, attribuendo determinati valori di referto istologico per non trovarsi poi a dover interpretare tutte queste diagnosi anatomopatologiche. Venendo alla classificazione che è tutt'oggi ancora carente, potremmo dire inesistente, certamente la maggior parte dei miei colleghi non la conosce e non la usa, io mi rifaccio ancora a quella suddivisione proposta da Barbagli e Palminteri, ormai diversi anni fa, che prevede quattro stadi clinici, ovviamente di gravità crescente, le quali portano con sé, con loro, dei comportamenti, anche delle prognosi completamente diverse. Se negli stati iniziali 1 e 2 la terapia locale, sia medica che chirurgica, possono auspicare, possono far prevedere una buona soluzione, un allungamento anche dei tempi di terapia chirurgica, nelle fasi ovviamente più avanzate è assolutamente necessario procedere quanto prima possibile a un intervento chirurgico di apertura del prepuzio e di sistemazione della situazione, anche i trauli come potete immaginare in entrambi questi casi, stati come quello che vedete in basso a destra, inspiegabili nel 2022, dove uno stesso paziente, peraltro medico, presentava tre patologie, una stenosi uretrale estremamente marcata che non coinvolgeva soltanto il meato, ma anche un tratto dell'uretropeniena, un carcinoma verrugoso al lato destro del prepuzio, un pain sul glande a carico della superficie laterale sinistra del glande. Questo paziente poi, come vedremo, è stato sottoposto a un intervento di glanzectomia e resurfacing. Qui riporto, senza addentrarmi, solo per far vedere che questa esigenza, questo bisogno di classificazione che dovrebbe essere condiviso tra tutti gli specialisti e questa condivisione potrebbe aiutare non soltanto un linguaggio comune, ma anche sulla scorta di una specie di linee guida, anche sollecitare soluzioni diagnostiche e terapeutiche più rapide. Ho proposto insieme ad un collega questa revisione della classificazione della fimosi secondo quattro variabili, che sono quella della presentazione, come si presenta il prepuzio alla visita, quindi se è scorrevole oppure no, quanto è grave il restringimento, se sussistono comorbilità e quanto tempo è trascorso dalla comparsa dei sintomi alla diagnosi. Questo dovrebbe, come dicevo, favorire una presa in carico più responsabile e più rapida da parte dei centri di urologia. Per quanto riguarda l'ambito chirurgico, vi vado verso la fine, credo che sia importante condividere questo pensiero, questo principio, che la principale indicazione alla circoncisione è una fimosi secondaria all'inasclerosis non rispondente a terapia medica o fisica. Il problema è che quelli che giungono a me spesso hanno completamente bypassato questa fase. Arrivano dopo tempi di latenza estremamente lunghi in una condizione in cui qualunque tipo di terapia che non sia quella chirurgica è assolutamente inutile, tant'è che in questi pazienti, spesso illudendomi di fare una battuta strammatizzante, dico che la sua situazione del prepuzio è come un vaso di Pandora, uno apre e non sa dentro quello che va a trovare, come vedremo in un paio di casi che io vi riporto, comunque all'apertura spesso possono essere trovate condizioni purtroppo neoplastiche, condizioni di ipospadia, di uretra doppia o di stenosi uretrale, quasi sempre sono presenti, soprattutto nei casi più inveterati, numerose e tenaci aderenze, tanto che alcuni autori sottolineano l'importanza che in questo tipo di pazienti è assolutamente consigliato procedere a una ricostruzione completa del glande con resurfacing, anche in casi di circoncisione parziale. Però, grazie al cielo, adesso qualche novità c'è, e soprattutto in casi come questi, che vi riporto, sono molto frequenti con tenaci aderienze, fusioni pressoché totali del glande con il solco, a livello del solco panoroprepuziale col prepuzio, viene proposta dal gruppo inglese, da un gruppo inglese gestito dal professor Munir, questa tecnica che è chiamata relost, dove praticamente, mentre la maggior parte delle volte, l'urologo procede dalla sommità del prepuzio verso la base del glande, quello che questi colleghi propongono è invece partire dal solco panoroprepuziale verso l'alto, cercando un piano di privaggio con il glande, con il corpo spongioso del glande, in modo da liberare realmente, definitivamente, questa struttura. e come vedete, gli esami, i risultati a distanza, sono veramente confortevoli, confortanti, sia da un punto di vista estetico, che da un punto di vista funzionale. Quando vi parlavo del vaso di Pandora, vi faccio presente due casi abbastanza eclatanti, questo paziente, 43 anni, fumatore, operaio, che presentava questa fimosi serrata da due anni, aveva la percezione di qualcosa di duro sul glande, ma non era dolente. Una volta aperto il prepuzio, si trattava di un grossolano carcinoma perrugoso, per il quale è stato poi necessario procedere a un'asportazione del glande. Come vedete nell'immagine in alto, a metà la lesione è circoscritta e non si approfondisce, per cui ci si è limitati a questo e a non altro. Si è poi proceduto ad un resurfacing del glande con un patch di derma e in basso a destra vedete dopo due mesi il risultato, ancora in via di guarigione, ma certamente più che soddisfacente. Questo invece è un paziente, un altro dei miei vasi di Pandora, che giunge in questa condizione alla prima visita, una volta aperto il prepuzio, presentava un carcinoma perrugoso che interessava tutto l'interno del prepuzio e la porzione sinistra del glande. Questo paziente, vista l'età, invece ha fatto un'amputazione parziale di pene. Avviandomi alle conclusioni, credo di condividere con voi che la gestione dell'ICAN deve essere necessariamente, obbligatoriamente, non più procrastinabilmente, multidisciplinare. È superficiale e potenzialmente pericoloso considerare la fimosi solo una patologia minore e ancor più una patologia cosmetica. Io sto proclamandolo da tempo ormai all'interno della Società Italiana di Andrologia, dove almeno il mio ruolo di consigliere mi consente un auditorio e un ascolto migliore. Ma non posso essere da solo, ho bisogno anche del ginecologo, delle associazioni, perché questo venga ben compreso dai colleghi. La difficoltà nella prevenzione, che è tipica nel maschio, può peggiorare diverse patologie genitali maschili, tra cui il lichen, con alterazioni, come abbiamo visto, sia urologiche che sessuali. La prevenzione, anche questo lo dico ai colleghi, non dovrebbe prediligere quasi esclusivamente patologie genitali di grande impatto, come la disfunzione rettile o l'eglioculazione precoce, e sono necessari percorsi più rapidi e agevolati, soprattutto diffusi, questo è stato già detto, è impensabile che una città come Roma preveda tre, quattro centri pubblici, dove per avere una circoncisione, pur lavorando solo su questo, il paziente deve aspettare tra gli otto mesi e i dodici. E' impensabile. Il problema è che le urologie, in generale, considerano questo tipo di patologia una patologia minore, ovviamente hanno interessi economici, scientifici, personali, su patologie, non solo, chiaramente oncologiche, su patologie maggiori, ma credo che ogni urologia, disponendo di una desagge, o comunque di una seduta, da dedicare alla chirurgia ambulatoriale, non può non prendere in causa questi casi. E infine, come ho già detto, ogni specialista deve assolutamente svolgere un esame obiettivo completo, anche come avviene per altre patologie, non necessariamente urologiche, perché abbiamo visto che patologie dermatologiche, come la psoriasi, patologie metaboliche, come il diabete, possono essere frequentemente, intensamente correlate a questa patologia. Grazie per la vostra attenzione. Grazie dottor Lauretti, è molto inquietante, per le percentuali mostrate, è interessante il fatto della flogosi cronica, io condivido pienamente, quello che è stato detto dal dottor Lauretti, che era stato già detto, anche dalla dottoressa Buero, che i genitali esterni vanno guardati, tanto nella femmina, quanto nel maschio, indipendentemente dal motivo di consulto, perché anche una banalisi situazione infiammatoria, potrebbe essere il momento di perdere dei consigli, anche di igiene o di terapie adeguate. Allora, prima di introdurre il lichen dell'infanzia, vorrevo ricordare che tutti i partecipanti, possono fare delle domande nella chat, meglio se specificano a chi è il relatore, qui indirizzata, e alla fine della mattinata, cercheremo di rispondere. Allora, per il lichen dell'infanzia, il dottor Riccardo Cavalli, che è direttore di una struttura complessa, che è la dermatologia pediatrica del Policlinico di Milano, e che anche collabora in questo ambulatorio multidisciplinare, affettuosamente chiamato Baby Lichen, con la partecipazione, oltre che della dottoressa Buero, alla dottoressa Restelli, al dottor Alfredo Berrettini, che è un urologo pediatra, anche qui ribadisco l'importanza che questa multidisciplinarietà venga intesa come un qualcosa di confronto e di collaborazione, e non di protagonismi. Dottor Cavalli, prego, la parola a te. Grazie, grazie per l'introduzione, grazie per l'invito, ringrazio il professor Vercellini e il dottor Liberani per avermi dato la possibilità di partecipare oggi a questa sessione. Anche io mi unisco a quello che stavi dicendo riguardo l'importanza di una creazione di un ambulatorio multidisciplinare su una patologia molto complessa e che vede questo ambulatorio, come dicevi tu, chiamato Baby Licken, lo vedo come un'esperienza assolutamente importante, formativa per tutti, che ha sicuramente arricchito le nostre conoscenze e che ha come finalità quella di creare un percorso diagnostico e terapeutico comune e di parlare un linguaggio comune. Cercherò di non sovrappormi a quanto ho già detto prima, cercando di focalizzare un attimino quello che è l'aspetto più prettamente clinico e dermatologico della patologia. Evidenza come l'età di sorgenza è compresa nel lichen sclerotrofico infantile tra i due e nove anni e ha una prevalenza soprattutto in età scolare tra i cinque e i sette anni e come osserviamo abitualmente un miglioramento progressivo dall'età scolare alla pubertà grazie probabilmente alla stimolazione ormonale. Le premesse sono che la diagnosi di lichen sclerotrofico come abbiamo sentito anche dai relatori prima è essenzialmente clinica è una patologia cronica sicuramente sottostimata anche per quanto riguarda il lichen sclerotrofico pediatrico infantile spesso misconosciuta poco riconosciuta e che come abbiamo visto necessita di un follow up a lungo termine. quello che è importante a mio avviso è una diagnosi precoce ancora troppi bambini arrivano tardivamente con forme conclamate con quindi compromissione d'organo importanti di qui la necessità e la sensibilizzazione a un riconoscimento precoce dei segni dei sintomi clinici iniziali che sono poi prevalentemente di carattere dermatologico proprio. Il lichen sclerotrofico pediatrico come abbiamo visto dà un interessamento spesso anogenitale con un aspetto cosiddetto A8 l'impegno extra genitale è piuttosto raro è circa del 5% e predilige come 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 sedi la radice degli arti e il tronco può essere presente un fenomeno di Koebner un fenomeno di Koebner ben conosciuto dagli specialisti dermatologi e che ricrea sostanzialmente delle lesioni licheniene in prossimità di cicatrici in sede di inoculo di vaccinazione o di trauni la diagnosi come abbiamo detto prima è clinica va escluso sempre un abuso sessuale come vi ho fatto vedere in collega precedente non c'è solo un aspetto femminile ma c'è un corrispettivo di un aspetto anche maschile che è meglio conosciuto come balanite exerotico obliterante e che è caratterizzata come vediamo e come ben sappiamo da una finosi progressiva serrata quello che è l'aspetto clinico si può distinguere in una fase iniziale e una fase tardiva la fase iniziale è una condizione che esordisce tipicamente con un'area tipicamente ipocromica con una cute che passa da un colore roseo carneo abituale e una consistenza soffice elastica a un'area più prettamente ipocromica pallida e caratterizzata da lesioni inizialmente papulari isolate in chiazze che tendono poi a confluire in placche di colorito rosa bianco avorio la fase tardiva diciamo più conclamata la cute assume un aspetto più diciamo sclerodermico che a livello genitale conferisce una mucosa di un colore tipicamente bianco madreperlaceo e brillante quello che rimarco è che invito i colleghi naturalmente nella pratica ambulatoriale di non limitarsi a osservare solamente quelli che sono i segni clinici ma anche imparare anche a toccare perché una delle condizioni diciamo fondamentali del cambiamento della mucosa è proprio dato da una perdita di elasticità di un indurimento progressivo del tegumento cutaneo qui vediamo in parallelo quello che è un aspetto clinico classico sia nel lichen vulvare sia nella balanite xerotico obliterante vedete che come la mucosa genitale cambia proprio di colore passa da un colore inizialmente pallido che qui vediamo molto bene nella diapositiva in basso a livello genitale maschile e a cui subentra poi successivamente una serie di manifestazioni di carattere infiammatorio che prevalgono diciamo poi successivamente con i segni clinici come le ragadi le raccolte microemorragiche l'emorragia scheggia e i segni tipici del prurito e quindi le lesioni scoriative in questa diapositiva possiamo osservare quelli che sono i segni clinici nelle due forme maschile e femminine che inizialmente hanno segni abbastanza comuni cioè sono caratterizzate come dicevamo prima da una mucosa che cambia inizialmente con un aspetto di colore mentalmente più chiaro un'ipopigmentazione a cui si associa una secchezza e un'atrofia progressiva e a cui succedono poi successivamente dei segni di carattere infiammatorio i segni di carattere infiammatorio tipici del lichens clorotrofico volvare li conosciamo bene sono caratterizzati dalle ragadi dalle erosioni dalle escoriazioni dove il sintomo dominante è sempre il prurito quindi avremo lesioni accompagnate naturalmente da escoriazioni fissurazioni e ancora successivamente nella fase più conclamata emorragia scheggia fusione delle piccole labbra incappucciamento del clidoride che probabilmente rappresentano una evoluzione più tardiva e con un sovvertimento e un cambiamento di quello che è l'architettura dell'organo genitale dall'altra parte nella parte genitale del lichen sclerotrofico maschile prevale l'aspetto fimotico della finosi una finosi progressiva spesso che si conclude con una finosi serrata a cui si associano poi inevitabilmente delle cicatrici infiammazioni del solcobalamo prepuziale e talvolta anche infiammazione del meato uretrale esterno come si accennava prima in lichen sclerotrofico vulvare il sintomo dominante è il prurito differentemente nel balanite sclerotico obliterante il prurito è raro e mentre domina forse quello che è il sintomo del bruciore possono in entrambi le forme abbinarse complicanze e sintomi come dolore disuria costipazione possibilità di sviluppo anche di disfunzione erettile nella balanite ex erotico obliterante qui vediamo quelli che sono gli aspetti clinici più comuni e quella che è una progressione della sintomatologia vedete nella prima diapositiva un aspetto tipicamente iniziale con questo cambiamento di colore e di consistenza della mucosa tipicamente una mucosa che come dicevamo prima assume un colore bianco avorio e che come possiamo osservare già manifesta dei primi cambiamenti in aggiunta con un processo di neangiogenesi cioè con la comparsa già di alcuni elementi vascolari caratterizzati da tenangectasia di carattere capillare venulare che assumono un aspetto tipicamente radiale nella fase conclamata prevale l'aspetto infiammatorio quindi avremo come dicevamo prima escoriazioni ragadi fusione delle piccole labbra incappucciamento del clitoride e qui naturalmente il sintomo importante è sempre il prurito nella fase conclamata tardiva come possiamo osservare possiamo vedere il cambiamento della mucosa con un aspetto più francamente sclerodermico quello che noi chiamiamo questo aspetto brillante questo aspetto madre perlaceo qui ancora un esempio della progressione vedete nella fase iniziale nella fase diciamo conclamata con l'aspetto iniziale telangiectasico che si intravede e una fase tardiva più francamente sclerodermica può essere d'aiuto l'utilizzo di un dermatoscopio come per i ginecologi la vulvoscopia che può mettere in evidenza questo cambiamento questo intervento diciamo importante della della di un processo di neangiogenesi che comporta probabilmente un innesco poi di un meccanismo infiammatorio a cascata qui vediamo molto bene la dermatoscopia quello che è questo aspetto telangiectasico diffuso il quadro istologico il quadro istologico è caratterizzato da un'ipercheratosi ortoceratosica un'atrofia cioè un epidermine che si definisce rettilinea un appiattimento della delle delle della della parte derma epidermica una vacuolizzazione delle cellule basale con l'alterazione della membrana basale la presenza di una banda iarina a cellulare del derma superficiale questo più tipico della fase tardiva a testimonianza di un cambiamento del metabolismo del collagene e quindi di una fase più prettamente sclerodermica e un infiltrato a banda di tipo linfomonocitario un cenno a quanto riguarda la diagnosi differenziale non dimentichiamo che l'ica sclerotrofico in alcuni casi può anche sovrapporsi ad altri quadri di qui l'importanza quindi di un riconoscimento di altre patologie che si permettono in diagnosi differenziale tra tutti la vitiligine che spesso può presentare un quadro di overlap al lica sclerotrofico che possiamo osservare meglio in questa diapositiva luce di Wood luce che permette di evidenziare meglio le chiazze di vitiligine che si distinguono dal lica sclerotrofico per una ipocromia ancora più marcata una cromia cosiddetta una colorazione tipo ghiaccio e un rinforzo ai bordi della colorazione tra le ipotologie poi più frequenti in età pediatrica abbiamo la psoriasi e l'ezema come vediamo la psoriasi è una malattia che spesso e volentieri a livello genitale infantile trova una sua localizzazione e che ha un aspetto francamente infiammatorio come possiamo vedere qui con un rosso brillante e dei margini molto netti l'ezema è una delle patologie anch'esse più frequenti di riscontro in età pediatrica il coinvolgimento genitale non è infrequente come vedete c'è un aspetto infiammatorio diffuso con un colore più cupo e una sorta di desqualmazione discreta della parte superficiale qui vi ho riportato quello che è un overlap che mi è capitato negli anni scorsi di osservare cioè una patologia molto rara come il penfigoide DGA che ha la peculiarità di interessare in maniera bipolare sia la parte genitale che la parte orale e che ha in comune con l'icroscredo atrofico delle lesioni di carattere scoriativo quindi questa è più una curiosità ma da non dimenticare anche le patologie autoimmuni soprattutto le patologie bollose nell'icroscredo atrofico extragenitale come abbiamo detto è molto raro qui vi faccio vedere un caso che ho visto circa una decina di anni fa ha come peculiarità delle manifestazioni sempre di carattere sclerodermico bianco madre perlaceo come potremmo osservare si ocularizza preferibilmente a livello della radice o della parte distale degli arti e del tronco le complicanze tardive le conosciamo molto bene sono caratterizzate da brille aderenziale delle piccole labbra riassorbimento parziale totale delle piccole labbra quanto riguarda la parte più prettamente femminile l'incappucciamento del clitoride e l'atrofia permanente delle piccole labbra e del clitoride dall'altra parte la banite serotico obliterante la disfunzione erettile della sensibilità entrambe le entità sono suscettibili spesso a infezioni batteriche e micotiche qui vediamo un aspetto clinico di quelle che sono le maggiori complicanze vediamo da una parte il lato femminile con una la presenza di brilli aderenziali la fusione delle piccole labbra addirittura un restringimento della parte vaginale dall'altra vediamo invece una finnosi importante serrata e un interessamento del meato uretrale esterno abbiamo detto che la diagnosi è clinica non esistono esami diagnostici che possono aiutarci in un certo qual modo alla diagnosi può essere di aiuto la vulvoscopia così come la dermatoscopia come abbiamo osservato prima la biopsia cutanea nei bambini ci si ricorre raramente solo nei casi molto dubbi e proprio per la sua invasività la parte immunologica viene eseguita essenzialmente come screening così come il tampone vaginale l'esame delle urine dell'urinocultura e il parassitologico da defici nella fase iniziale un accenno alla terapia la terapia dell'ican scelotrofico della vanite xerotico obliterante vede nella fase iniziale e nella fase acuta l'utilizzo di prodotti corticosteroidei a uso topico a cui associamo spesso e volentieri nella fase di remissione inibitori della calcioneurina quindi tacronimus e prime cronimus difficilmente anzi quasi mai utilizziamo prodotti di assunzione sistemica come retinoidi sistemici metotrexate ciclosporina da rimarcare l'utilizzo di estrogeni e androgeni topici nella fase diciamo di remissione della patologia dall'altra la vanite xerotico obliterante non ha un grande spazio per quanto riguarda la terapia topica perché prevalentemente sono diagnosi che vengono fatte essenzialmente dopo asportazione chirurgica con una diagnosi prettamente di carattere istologico la terapia topica comunque viene riservata successivamente all'asportazione chirurgica con l'utilizzo di corticosteroidi e di emollienti abbiamo già osservato prima quelle che sono le linee guide quello che è il pensiero sostanzialmente diciamo anglosassone che propone da sempre una terapia con uso di farmaci a base di corticosteroidici di varia potenza diciamo che noi apparteniamo io personalmente appartengo più a una una scuola di pensiero più europea che prevede non solo l'utilizzo di farmaci corticosteroidei a uso topico ma che utilizza spesso e frequentemente nella fase di remissione e nella fase a lungo termine di immunomodulatori topici questo lo spiegherei soprattutto per evitare a lungo termine visto che è una patologia cronica un'atrofia marcata della mucosa a lungo termine questa è una proposta che di terapia nel lico sclerotrofico pediatrico che propongo e che proponiamo come gruppo multidisciplinare quindi congiuntamente a quello che sono i miei colleghi ginecologi e urologi conveniamo che nella fase acuta sia importante utilizzare corticosteroidi topici potenti normalmente li utilizziamo per circa 20-30 giorni a cui segue normalmente un miglioramento e dove necessariamente poi nella fase a lungo termine interveniamo e proponiamo inibitori della calcio in orina come tacrolimus e pimecrolimus questi farmaci poi vengono a loro volta scalati progressivamente e in condizioni di remissione prolungata riteniamo possa essere utile utilizzare quindi una terapia a base di ormoni come estriolo topico da utilizzare due volte alla settimana cicli fino a un completamento della guarigione naturalmente l'emolliente a base di unguenti di vitamina E viene utilizzato sia nel periodo della fase acuta sia nel periodo della remissione in quanto permette una migliore sofficità e morbidità dell'acute e soprattutto contribuisce a mantenere un buon effetto della barriera dermoepidermica qui vediamo dei casi riportati di prima e dopo terapia vedete come ci sia una riduzione della componente infiammatoria e una restituzione diciamo di un colore più normale una elasticità più normale dell'acute questo è un altro caso vedete prima tipica tipico aspetto sclerodermico e successivamente un miglioramento progressivo in alcuni casi si riesce anche a migliorare e mitigare quelle che sono le complicanze come appunto le aderenze o come appunto l'incappucciamento del clitorio c'è un miglioramento anche discreto con la terapia locale ci sono delle questioni ancora aperte vale a dire se il lica sclerotrofico noi ci chiediamo da sempre se il lica sclerotrofico risolve definitivamente la pubertà c'era questa convinzione anche da parte mia in precedenza prima che costituissimo questo ambulatorio multidisciplinare ritenevo che buona parte dei lica sclerotrofici che in età pediatrica arrivavano alla pubertà tendessero a migliorare o addirittura a risolvere di fatto come abbiamo visto nel lavoro ritrospettivo fatto recentemente con la dottoressa Boero abbiamo visto che di fatto non è così cosa succede in età matura come dermatologo pediatra mi sono sempre chiesto che fine avrebbero fatto poi successivamente questi bambini seguiti fino ai 14 15 anni in un'età più matura se il DIC avesse avuto la possibilità di ripresentarsi la necessità di un protocollo terapeutico condiviso come abbiamo proposto prima nel DIC sclerotrofico infantile quale destino per la branite oxerotico obliterante se destinata esclusivamente a una terapia chirurgica o se c'è la possibilità tramite una diagnosi precoce o più precoce la possibilità anche di una terapia di carattere topico ha già accennato la dottoressa Povero prima nel suo intervento per quanto riguarda il DIC sclerotrofico pediatrico predittore o precursore di DIC sclerotrofico dell'adulto e abbiamo visto come il DIC sclerotrofico sia preferibilmente un come dire un predittore più che un precursore di DIC sclerotrofico dell'adulto riprendo quelli che sono i risultati dello studio retrospettivo condotto dal 90 al 2011 su 63 pazienti e che ha visto solo un 18% di guarigione definitiva un 26% asintomatico che migliora sensibilmente ma in cui persistono dei segni anatomici con l'isborfismo dei genitali e che noi chiamiamo questo gruppo come un gruppo di area grigia che sicuramente meritevole di ulteriori approfondimenti e come addirittura un 58% dei pazienti lamenti ancora sintomatologia dopo la pubertà in conclusione l'IC sclerotrofico vulvare migliorando la pubertà persiste in un'alta percentuale dei casi e richiede un follow up a lungo termine abbiamo visto come esiste questo gruppo di area grigia che pur asintomatico presenta segni persistenti o cicatriziari e che necessariamente richiede di un follow up per una migliore comprensione di questi dati la terapia topica assicura un netto miglioramento della sintomatologia e se protratta a lungo termine prevene le seguele e le complicanze e quindi naturalmente infezioni distorsioni e rischio tumorale ulteriori conclusioni il lichen sclerotrofico pediatrico può essere considerato quindi non un precursore ma un predittore e ci riproponiamo tutti quanti come obiettivo comune quello di una sensibilizzazione una maggiore sensibilizzazione e una migliore conoscenza del lichen sclerotrofico sul territorio per poter facilitare una diagnosi precoce e una terapia tempestile concludo ringraziando il nostro gruppo che come ho detto prima è un gruppo che si sta dimostrando estremamente efficace e estremamente produttivo grazie bene grazie anche di questo di questa ampia visione per quello che riguarda il lichen dell'infanzia e concludiamo praticamente con il punto di vista della psicologa la dottoressa Giara Gramegna che è psicologa al Policlinico di Milano al termine della quale ci sarà spazio per le domande commenti o quant'altro sperando di stare poi nei tempi per consentire a tutti poi di andare a pranzo in un'ora decente prego dottoressa grazie buongiorno a tutti ringrazio professor Vecilini e anche Veronica Boiero per insomma questa occasione di approfondimento allora ma io direi che le presentazioni di tutta questa mattinata penso abbiano reso molto chiaramente quanto possa essere impattante una diagnosi di appunto di lì allora appunto di quanto può essere impattante una diagnosi io parto un attimo dalla letteratura dove in realtà ci sono pochissimi articoli scientifici appunto che hanno approfondito gli aspetti psicologici e sessuali di questa diagnosi in generale quello che è stato evidenziato è che questa patologia ha conseguenze sulla qualità di vita e in particolare sulla dimensione relazionale e sulla sessualità tali articoli hanno appunto messo in evidenza che dolore prurito influiscono sulla frequenza dei rapporti la soddisfazione sessuale la frequenza dell'orgasmo quindi il piacere in generale la riduzione dell'interesse per il coinvolgimento sessuale a casa del dolore può portare quindi ad un allontanamento anche tra i partner inoltre ciò che influisce anche la durata della malattia ovvero da quanto tempo la paziente ha questi sintomi e quanto ci ha messo per arrivare ad una diagnosi nonché ad una terapia che almeno attenui i sintomi ma anche quanto la patologia abbia condizionato proprio l'aspetto dei genitali i cambiamenti anatomici che abbiamo anche visto molto chiaramente stamattina che non solo possono impedire concretamente di avere rapporti ma nello specifico generano imbarazzo nella donna e portano ad evitare sempre di più anche solo un contatto intimo senza magari dei rapporti penetrativi di fatto pochi articoli ma tutti raccomandano di approfondire anche in sede di visita medica visita ginecologica gli aspetti legati al funzionamento sessuale questo consente di fatto anche di comprendere quali trattamenti siano realmente efficaci per poi offrirne uno individualizzato che sia non solo appunto magari un trattamento topico ecco ma cosa ci dicono le donne cosa raccontano dunque grazie appunto agli approfondimenti abbiamo capito di quanto possa essere si possa evidenziare poi un disagio psicologico direi proprio un disagio affettivo emotivo e relazionale queste donne possono provare frustrazione solitudine rancore rabbia ma anche appunto imbarazzo come dicevo poco fa e molto altro certamente vi è una grande variabilità nell'intensità di tale emozioni come nell'evoluzione delle reazioni dipendono dalle caratteristiche individuali dalla capacità di elaborazione di ognuno e dalla qualità dei legami familiari e di coppia di fatto il disagio psicologico insorge con il danno somatico e progredisce con questo rinchiude e blocca un po' l'esperienza dell'io della propria personalità per cui risulta necessaria una ridefinizione del sé e della propria identità proviamo a pensare ad esempio ad una giovane donna che desidera figli ma si scontra con tutto questo e deve quindi mettere un po' in stand by quello che è il proprio desiderio procreativo e i suoi progetti di coppia non dimentichiamo poi il fatto che si tratta di una patologia ancora appunto non chiaro comunque la diagnosi non è ancora così facile da ricevere per cui resta poi per tutta la vita nonostante le cure e il dolore cronico e l'assenza di cura possono portare anche a depressione la persistenza del disagio fisico coinvolge la sfera emotiva anche da un punto di vista più in generale socio-relazionale per lo stato di imbarazzo e vergogna causato dall'improvvisa insorgenza del prurito appunto nelle regioni genitali ed il timore di non poterlo controllare questo porta spesso ad evitare situazioni sociali e quindi ad un progressivo isolamento ci sono donne che non riescono a vivere serenamente liberamente un semplice evento sociale come può essere una festa di compleanno ma se vogliamo anche più semplicemente un po' la quotidianità quindi un'esperienza non so universitaria l'esperienza lavorativa per cui insomma è appunto davvero molto impattante in particolare poi la persistenza dei sintomi delle lesioni cutanee porta all'insorgenza del disagio nella relazione di coppia come appunto ho detto anche poco fa si generano incomprensioni e scetticismo quindi angoscia abbandonica cioè il timore che la relazione finisca un po' a causa della malattia a volte dicono le donne a causa mia come se quasi fosse controllabile da loro ma non è così inoltre come evidenziato all'inizio è una patologia che impatta appunto sulla sessualità e l'intimità le lesioni rendono meno piacevoli dolorosi rapporti che sono sempre più diradati nel tempo ed associati all'ansia prestazionale questo se non compreso ed elaborato o all'interno proprio della coppia può rendere meno intenso il rapporto stesso e generare delle fratture a volte addirittura capita che si generi nella donna un senso di obbligo ad avere rapporti o contatti intimi insomma sessualità come fosse un dovere perché i timori e i sensi di colpa possono essere davvero soffocanti potremmo quindi definirlo appunto un disturbo psicoemozionale della coppia se vogliamo tra l'altro questo dolore come tra l'altro ci diceva stamattina Muriel rende difficile proprio la normale ad esempio attività fisica o il camminare anche appunto per raggiungere il luogo di lavoro oppure la libera scelta di indossare ciò che si vuole come i jeans attillati ho in mente racconti di donne che la sera rientrano al lavoro hanno bisogno di prendersi del tempo perché non sopportano più neanche il contatto con la biancheria intima la doccia calda può aumentare il dolore l'igiene intima la cura intima richiedono molta attenzione e molto tempo quotidianamente poi le visite mediche possono essere frequenti anche perché appunto alcune pazienti prima di arrivare ad una diagnosi ci mettono tanto devono recarsi da diversi specialisti anche in tutta Italia a volte quindi l'impatto del lichen è davvero a 360 gradi ma cosa possiamo fare appunto per queste donne sicuramente aumentare occasioni come quella di oggi per diffondere queste conoscenze questi approfondimenti e offrire consulenze mediche sempre più approfondite e specializzate in cui il dolore sessuale deve essere considerato come un sintomo complesso da analizzare e trattare da più prospettive per cui poi c'è bisogno sicuramente di una terapia adeguata da un punto di vista più fisico di attenuazione del sintomo nonché ovviamente una terapia psicologica e sessuale che è quella che vado un po' ad approfondire prendo spunto in particolare da un articolo che è recentissimo perché è stato pubblicato a luglio da un gruppo danese in cui si esame appunto l'effetto di un breve percorso di consulenza psicosessuale appunto sul funzionamento sessuale e sulla qualità di vita delle donne con lichen appunto sono ho scritto 178 ma in realtà sono 158 158 donne appunto che hanno compilato tre questionari riguardanti il funzionamento sessuale l'impatto dei sintomi dermatologici e una valutazione globale del benessere sono state proposte all'interno un po' del percorso appunto medico otto sedute di consulenza psicosessuale in circa sei mesi a cui sono stati invitati anche i partner ma non sempre hanno partecipato l'approccio utilizzato nello specifico era quello della terapia cognitivo comportamentale per cui il focus era centrato sul restituire piacere e soddisfazione sessuale attraverso l'assegnazione di compiti progressivi in seduta venivano approfondite le sensazioni il desiderio di proseguire grazie al ritrovato piacere solo allora il terapeuta invitava a progredire con lo step successivo in alcuni casi sono stati introdotti terapie di desensibilizzazione come ad esempio l'MDR che è abbastanza conosciuto ormai l'insegnamento di modalità di tecniche di rilassamento ma anche l'uso di tutori vaginali di grandezza progressiva sono stati rilevati i livelli significativi significativamente più alti sia della qualità di vita che del funzionamento sessuale di coppia ma gli autori sottolineano che nonostante tal effetto significativo la maggioranza delle donne in realtà ottiene ancora ponteggi che indicano un ulteriore bisogno di cure sessuali cioè riportano comunque magari ancora un lieve dolore solo occasionale però comunque c'è prurito e bruciore questo anche perché di fatto è una diagnosi appunto cronica di fatto non passa per cui sicuramente c'è molto da approfondire ma mi è sembrato proprio importante un po' condividere anche questo articolo perché aiuta a comprendere quanto possa essere utile una terapia psicosessuologica per queste donne in generale in considerazione dell'eterogeneità delle pazienti e dei fattori coinvolti le linee guida raccomandano un approccio integrato quindi una fase di assessment approfondito e multidisciplinare in cui poter integrare approcci diversi e le conoscenze proprio di figure professionali differenti raccomandano tra l'altro anche una terapia sessuologica che prenda spunto dalle teorie psicodinamiche sistemiche e appunto comportamentali che ad esempio ho citato poco fa allo scopo di mettere in atto di fatto dei trattamenti individualizzati ed efficaci qua ho messo qualche punto saliente insomma di quello che può essere una terapia psicosessuologica appunto integrata per quanto riguarda invece la mia esperienza proprio clinica personale purtroppo non ancora con donne che appunto sono affette da lichen concludo un po' aggiungendo e dando un po' uno spunto se vogliamo perché personalmente io credo che quando si ha a che fare con persone affette da una patologia appunto che finisce di fatto sotto un'unica etichetta può essere molto utile organizzare dei gruppi di sostegno anche in letteratura si trovano diversi contributi a favore di tale approccio e in caso di stress malattie o disagio di varia natura e io ho personalmente constatato che l'intervento di gruppo appunto può essere un ottimo strumento grazie alla sua potenzialità trasformativa ovvero attraverso la relazione con gli altri e con il conduttore il gruppo può portare all'accrescimento delle conoscenze del soggetto e delle capacità di pensare e percepire le proprie emozioni è una possibilità di appunto elaborazione attraverso la condivisione di esperienze vissuti ci si confronta si scambia le informazioni in uno spazio protetto in assenza di pregiudizi dove non è necessario tra l'altro intervenire e disporsi in prima persona ci si sente capiti perché tutti i partecipanti stanno affrontando la stessa patologia per cui se magari a livello di relazioni sociali più generiche piuttosto che a livello di relazioni di coppia ci possono essere delle incomprensioni in un gruppo in cui si sa che tutti i partecipanti hanno quella diagnosi lì incomprensioni e fratture non ce ne possono essere per cui appunto all'interno di un gruppo ci si sente meno soli più compresi i partecipanti si rispecchiano nell'altro si sentono liberi di parlare delle proprie emozioni in un clima di accettazione di conseguenza migliorano le proprie conoscenze e le strategie di reazione senza più una visione centrata sul dolore quindi appunto il mio spunto è perché non pensare di cercare di variare un po' di più anche l'offerta per queste donne che sono affette appunto da una patologia che impatta sulla quotidianità grazie per l'attenzione benissimo quindi c'è lo spazio c'è poco spazio ma un po' di spazio per le domande o i commenti c'è raccomando sintesi estrema tanto nella domanda tanto in chi dovrà rispondere Carlotta tu ci sei eccomi allora dalla chat abbiamo moltissime domande delle pazienti a cui risponderemo personalmente in chat al termine dell'incontro invece vedo delle mani alzate allora Francesco Casabona vuole fare lei la domanda? grazie mi sentite? si la sentiamo buongiorno a tutti io sono chirurgo plastico di Genova colgo l'occasione innanzitutto per salutare gli amici e colleghi e complimentarmi con le bellissime relazioni da chirurgo plastico volevo solo fare un un commento e una precisazione per quello che riguarda la terapia rigenerativa che so che poi verrà ampiamente trattata nella prossima incontro tuttavia il discorso era il ruolo della rigenerativa è quello di riparare i danni non di curare il lichen questo è molto importante perché soprattutto chi si approccia a queste terapie che innanzitutto non sono più nuove ma che facciamo da tanti anni si vanta di curare in maniera innovativa una malattia e questo non è assolutamente corretto e appropriato ma invece assolutamente appropriato per quello che riguarda la riparazione del danno dell'ulcera della lesione difficile della cicatrice e questo invece è molto differente e se no si rischia di andare contro quelle che sono le linee guida mentre le linee guida per riparare un'ulcera col PRP ha delle raccomandazioni importanti per la cura dell'ichen non le ha ancora può darsi che poi in futuro la letteratura ci dirà anche che avendo un effetto antinfiammatorio il PRP così come le cellule staminali sicuramente hanno un effetto paracrino e di riparare i tessuti però attualmente la letteratura ci consente di riparare i danni riparando i danni ovviamente migliorano molto i sintomi prurito e bruciore e quant'altro sei d'accordo vero Veronica? grazie Francesco per l'intervento sono assolutamente d'accordo con te sì sì poi ne parleremo ampiamente nel secondo incontro a cui abbiamo dedicato spazio proprio perché non è ovviamente una terapia di prima scelta non è la terapia di prima linea è una terapia che serve per riparare dei danni ad una cute danneggiata che ovviamente ha tutta una serie di problemi poi che si ripercuotono sulla funzionalità concordo pienamente grazie per l'intervento se posso solo fare un commento ciao Francesco tu sei sempre stato molto prudente la terapia cortisonica avendo grosse evidenze di prevenzione oncologica non deve essere vista come un'alternativa come avete sottolineato ma proprio come una sorella da andare a braccetto finché poi le ulteriori evidenze ci aiuteranno ad andare avanti proprio per l'effetto antinfiammatorio probabilmente del PRP avrà dei successi probabilmente più rapidi di quello che è previsto però la prudenza ci aiuta sicuramente no va bene se non c'è altro io ricordo per l'ennesima volta tra 15 giorni sabato 15 che ci sarà l'intervento ovviamente della dottoressa Boero della dottoressa Todisco del dottor Murina dell'ospedale Buzzi di Milano finalmente i chirurghi plastici la dottoressa Almadori del dottor Brambilla del Policlinico quindi vale la pena di essere presenti ringrazio lo zoccolo duro della redazione del Mangiagalli Journal Club Paolo Vercellini e anche tutti i partecipanti che in una mattinata prefestiva sono stati connessi fino alle 12 passate quindi se non c'è altro da dire ringrazio tutti i relatori partecipanti Veronica se vuoi fare un ultimo commento magari per anticipare un flash su quello che potrebbe essere un futuro incontro in presenza in clinica sì Carlo ringrazio anch'io tutti quanti tutti i partecipanti per l'anno prossimo abbiamo proprio pensato di fare un convegno multidisciplinare sul lichen genitale dell'infanzia perché riteniamo che sia al momento necessario sensibilizzare anche i pediatri i pediatri di base che poi sono quelli che vedono i piccoli pazienti in prima battuta sarà programmato per il 26 maggio del 2023 ovviamente lo faremo adeguata ve lo presenteremo quanto prima grazie ancora a tutti i relatori e al dottor Liverani per aver moderato la giornata grazie a voi arrivederci buon pranzo e buon weekend grazie